Dopo la vittoria nel derby con il Giojosa è arrivata questa seconda vittoria consecutiva a Villa che si stava dimostrando una squadra ostica per tutti. Cosa mai dici della partita? No, vabbè, la seconda vittoria pure meritata, pure contro il Giojosa, una bella vittoria e ora ci abbiamo trovato una villese compatta, organizzata, che sa quello che fa e niente, la stilese ha dato il passo in avanti e l'abbiamo vinto dal primo tempo. Adesso, dopo questa seconda vittoria, vi ritrovate a un punto dei play-off. Quali sono le ambizioni della stilese? Adesso, prima di salvarci, poi quello che viene e quello che arriva, benvenuto sia. Sei arrivato a dieci gol stagionali, pensi di arrivare a quindici, a sedici? Speriamo una meta personale e che ogni anno mi propongo a me stesso sempre supera me. di quello che faccio, la motorella, no scordo.